Buonasera amici di segnalazioni letterarie, dopo una settimana di pausa forzata dovuta a motivi tecnici, ritroviamo come quasi tutti martedì alle 18 sulla nostra community l'avvocato Giovanni D'Amassa, pioniere del diritto su web in Italia, il suo sito www.dirittodottore.it quest'anno festeggia il primo quarto di secolo, è ormai una collaborazione importante e assodata del nostro gruppo e oggi con Giovanni parleremo di diritti e doveri, forse soprattutto di questi ultimi, dei distributori editoriali, sappiamo che i distributori editoriali rivestono un peso importantissimo soprattutto dal punto di vista economico oltre che logistico nel mondo editoriale e quindi direi Giovanni, questa sera possiamo parlare, almeno in breve, di qualche aspetto relativo appunto ai diritti che hanno questi distributori, però anche ai doveri, visto che sappiamo tutti che senza distributori, libri non ci colerebbero, però assorbono anche una buona parte del fatturato appunto del mondo librario Giovanni, grazie, grazie Alberto, buonasera a tutti, ovviamente stiamo parlando di distributori, di esemplari fisici dell'opera certo, lasciamo invece da parte la distribuzione digitale, almeno per stasera qui bisogna vedere se il rapporto è la catena dei diritti, parte dall'autore, passa dall'editore che poi utilizza il distributore per poter distribuire gli esemplari nelle librerie oppure c'è un rapporto direttamente tra l'autore e il distributore saltando l'editore perché avviene anche questo, nel senso che l'autore, ho visto casi di autori che stipulano contratti direttamente con distributori che fanno un po' il lavoro dell'editore, nel senso stampano però hanno quel vantaggio in più dell'editore che non ha che è quello di avere poi contatti diretti per le distribuzioni che possono fare direttamente oppure con i soliti nomi noti perché poi i distributori veri e propri, cioè coloro che prendono e piazzano i libri nelle librerie non sono tanti, lo sappiamo e sappiamo anche più o meno chi sono ecco, allora se c'è un rapporto autore-editore tramite il contratto di edizione per le stampe di cui abbiamo già parlato tante volte a sua volta poi l'editore ha un contratto con il distributore per cui se io autore ho da lamentarmi rispetto a quello che è la distribuzione mi devo rivolgere all'editore perché il mio rapporto contrattuale è con lui e se l'editore tra l'altro, torniamo a un tema già ampiamente dibattuto nelle nostre precedenti dirette ovvero l'editore non mi rendi conta, non mi può dire ma vai dal distributore qui mi riferisco al quesito che è stato messo nel gruppo che dice che fare quando un editore si nega a fornire rendiconti, vendite a un autore scaricando quest'onere al distributore e no, l'onere è dell'editore se andiamo a leggere il testo del contratto o saltiamo il testo del contratto e vediamo quello che prevede la legge sul diritto autore l'editore si obbliga a pubblicare l'opera e a rendicontarne le vendite e a pagare le royalties spettanti all'autore per cui è l'editore che mi deve rendicontare dopodiché, grazie a queste novità normative di cui abbiamo già parlato nel passato che arrivano dall'attuazione nel sistema normativo italiano della direttiva copyright ovvero la 790 del 2019 è stato introdotto questo articolo 110 quater di cui abbiamo già parlato che parla di obbligo di rendicontazione da parte del cessionario a favore di autori e artisti se il mio primo, diciamo, avente causa in questo caso l'editore non mi rendi conto allora la legge mi permette di saltarlo e di scrivere direttamente al distributore cosa che nella mia vita professionale mi è capitato di fare recentemente proprio in applicazione di questa norma e qualche distributore ha risposto qualche altro distributore non ha risposto attenzione perché se non rispondono allora c'è una sanzione che arriva tramite l'Agicom sanzione che può arrivare fino all'1% del fatturato annuo calcolato sull'anno precedente e quindi questo dovrebbe servire, come dire, a sensibilizzare come deterrente a deterrente, cioè, va bene, so che se non lo faccio mi arriva la sanzione sanzione che è sottoposta però a un regolamento Agicom che ancora non si è visto per cui siamo in attesa appena parte questo regolamento sicuramente partiranno le prime segnalazioni e l'Agicom dovrà poi decidere se erogare o meno sanzioni perché è abbastanza comune nel mondo dell'editoriale purtroppo, della piccola editoria non so, l'editore si dimentica di inviare i vendiconti e per cui, proseguo nella lettura del quesito è come se l'opera non fosse mai stata pubblicata o in questo caso i diritti acquisiti dall'editore tornano in esclusiva proprietà dell'autore no, non è proprio così è un inadempimento questo inadempimento va fatto valere secondo una procedura di legge per cui non è che c'è un automatismo ma bisogna fare delle cose questo l'abbiamo spiegato nelle nostre precedenti dirette e comunque è scritto anche la norma 110 quater della legge sul diritto d'autore ecco, poi il quesito prosegue sulla distribuzione cosa fare se il distributore non provvede a esodire gli ordini effettuati dai lettori allora, questo è un problema è un problema che si può risolvere ovviamente con tutta una serie di solleciti tenuto conto che se ho un rapporto direttamente con l'editore ovviamente l'editore che ha sostenuto dei costi per la stampa, tutto l'interesse che l'opera sia distribuita soprattutto sia venduta perché altrimenti poi non ci sono i ritorni economici a copertura degli investimenti e l'autore non riceve le sue royalties per cui bisogna sollecitare l'editore che a sua volta solleciti distributore a fare il suo lavoro e poi dipende dal tipo di rapporto che c'è tra editore e distributore se c'è, come immagino, come di solito c'è un contratto dove il distributore si impegna a fare una distribuzione e sarebbe poi inadempiente come dire agli obblighi contrattuali con tutte quelle che sono le conseguenze di legge bisogna anche però tener conto di questo fatto di cui io sono certo che Alberto, voi ne avete già parlato qua nel gruppo che c'è un'offerta eccessiva rispetto a quello che per esempio le librerie possono anche tenere fisicamente nelle librerie, no? Assolutamente rispetto a quella che era una situazione magari di 20-30 anni fa dove comunque c'erano meno case editrici c'erano meno autori c'era meno possibilità di accedere alla pubblicazione rispetto invece alle possibilità che ci sono oggi per cui quello che dal punto di vista pratico attenzione succede che la libreria non ha capacità di immagazzinare tutto quello che è l'offerta che c'è ma neanche che c'è a disposizione ma neanche la più grande libreria perché poi ma neanche forse che ne so le librerie di Amondadori o le Feltrinelli eccetera hanno comunque delle capacità limitate e nell'ambito di queste capacità limitate tendono a mantenere disponibili immediatamente disponibili quelle che sono opere che sanno che diciamo tra virgolette si vedono sulle opere nuove sulle opere di autori minori allora c'è effettivamente l'ordine che viene fatto dall'utente alla libreria la libreria si rivolge al distributore e se il distributore non ha disponibilità in magazzino di queste copie allora si rivolge all'editore per avere copie oppure la libreria magari si rivolge direttamente all'editore non essendoci un distributore preciso di questa opera questo però comunque hanno tutti i loro sistemi database eccetera eccetera per cui si risale a chi bisogna chiedere e se questa se queste richieste non vengono evase è un problema effettivamente che non è invece in questo caso facilmente risolvibile perché ovviamente l'utente fa l'ordine l'ordine arriva a destinazione ma non viene evaso per colpa di chi non sappiamo forse del distributore forse diciamo un editore un po' pigro tra virgolette non lo so di fatto è che il libro non arriva alla libreria e non arriva all'utente che è disposto ad acquistare questo problema è un problema che oggi viene evidenziato tramite social perché c'è la possibilità di contattare gli autori tramite social direi guarda ho ordinato il tuo libro ma la libreria non riesce a farlo arrivare e così via e qui devo prendere e scrivere al mio editore o se ho il contratto diretto con l'istitutore e dire perché questo c'è di questo perché il libro non arriva alla libreria e cercare di avere delle risposte che siano soddisfacenti se non sono soddisfacenti anche qui si può configurare un grave inadempimento perché si viene meno quello che è la causa per cui si stipula il contratto cioè il fatto che i libri siano pubblicati e disponibili al pubblico per essere acquistati e quindi questo è il compito dell'editore o del distributore e per questo motivo quindi si può anche agire per l'inadempimento e andare a risolvere il contratto bene Giovanni allora quindi se dovessimo riassumere brevemente in un minuto quello che tu hai detto nei precedenti dieci così diritti e soprattutto doveri dei distributori perché abbiamo insomma chiarito anche dei punti interessanti beh sicuramente al centro di tutto c'è l'interesse che il libro sia in qualche modo fruito e quindi portato al pubblico tramite quello che è il canale storico della libreria per cui io autore se vengo a sapere che questo non succede devo fare pressione sul mio editore o sul mio distributore se ho un rapporto diretto con un distributore se questo se nonostante queste pressioni comunque non c'è effettivamente la distribuzione promessa allora questo può essere la causa di inadempimento che può portare a un'istruzione del contratto è chiaro che bisogna poi contestualizzare caso per caso quello che effettivamente accade nella realtà perfetto quindi abbiamo anche detto una cosa insomma che mi è come dire rimbalzata particolarmente all'orecchie che dunque se un libro non si trova in libreria non bisogna rivolgersi al distributore ammesso che si sappia chi è parlo degli autori beh se hai contratto con l'editore si deve rivolgere all'editore e dire editore guarda che mi è arrivata la notizia così per cui se è l'editore che ha poi il rapporto con il distributore e compito dell'editore dire guarda distributore è stata fatta questa richiesta di acquisto di un libro che tu non hai evaso dimmi quantomeno perché non l'hai evasa ecco no perché diciamo che qua il discorso si era posto soprattutto dal punto di vista di un rapporto degli autori eventualmente con i distributori stessa cosa a questo punto vado e scrivo al distributore e avendo il rapporto diretto dico caro distributore devo sempre vedere anche cosa c'è scritto nel contratto no ovviamente questo è il punto di partenza togliamoci il contratto a forza di legge tra le parti per cui la mia legge è il testo del contratto sì sì poi tu uno dei tuoi principi diciamo di giurisprudenza che poi è un consiglio pratico che dai agli autori è semmai di andare prima dagli avvocati prima di firmare un contratto perché nel contratto una delle clausole più importanti credo che in ogni contratto editoriale gli obblighi della controparte siamo ben definiti gli obblighi della controparte ma poi anche le modalità di distribuzione se le definiamo secondo te le modalità di distribuzione nei contratti che tu visioni sono chiare spesso troppo implicite o troppo ma sono molto generiche nel senso io provvedo perché poi la distribuzione dipende anche dal numero di copie stampate viene da sorridere perché recentemente mi è stato sottoposto un contratto di una casa editrice abbastanza conosciuta molto forte sul piano del marketing che dice ma io faccio questo quest'altro quest'altro così poi dopo scrive però tutti obblighi a acquistare mettiamo 100 copie no? non diceva bene 100 copie però comunque ti stai obbligando a comunque metterli in libreria eccetera eccetera poi a vedere le condizioni generali del contratto dice contratto inizia da termini e così il minimo della tiratura della prima edizione è 100 copie allora uno si chiede ma se tu tiri 100 copie io acquisto 100 copie dove sono le copie che vanno in libreria? certo no no è chiaro bisogna stare attenti bisogna leggere 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 con attenzione certo va bene Giovanni io ti ringrazio per questa consulenza e diciamo che noi ci vediamo la prossima volta a tutti a tutti a tutti a tutti va bene perché è ormai un punto fermo del nostro palisesto esatto ricordiamo il tuo sito www.dirittodautore.it se avete quesiti di ordine legale per ciò che concerne diritto d'autore e affini siete nel posto giusto perché potete girarceli e noi ne tratteremo con Giovanni D'Ammassa ciao Giovanni e ci vediamo molto presto spettatrici e spettatori continuate a seguirci perché abbiamo tanti appuntamenti interessanti anche prossimamente ciao 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 ciao